Bella ragazzoli, benvenuti su questo nuovissimo video. Se volete supportarmi su Fortnite è possibile farlo direttamente dall'item shop di Fortnite. Basterà andare appunto nell'item shop, cliccare sul supporto al creatore in basso a destra e andare ad inserire il mio nome, ovvero Croatomist. Accettare e il gioco sarà fatto. Quindi ragazzi ringrazio tutti coloro che dicevano di supportarmi e buona visione. Ah ragazzoli, quasi me ne dimenticavo. Non dimenticate di seguirmi sul mio profilo Instagram. Fidatevi, non me ne pentirete. Link in descrizione. Oh, posso salire? Questa è il tattico. Ok. Dai, edita. Tattico blu questo. Visto ragazzi come si vede meglio la smoke bomb? Avete visto? Come lo vedevo? Ah, va. Edita. Cioè ragazzi non ci credo. Cioè ragazzi non ci credo. Quindi se lo uccido prende lui la kill. E non ha senso. E poi fuscio subito diretta. Dove andare tipo instant. Mamma mia ragazzi. Ok. 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 punto di partenza. Ok. 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 Questo è rift. Ok What? Come se mi sto sparando veramente con le SMG nuova? Bro, ma vattene in safe, cosa stai facendo? No Grazie a tutti 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 Porca troia ma tu sei fuori di testa Bro Ah però c'ho la safe Ok Questo ragazzo è game changing Questo ragazzo è fucking game changing Quindi come se non lo sapessi però E' one shot Lo so che è un one shot Cioè a meno che non si sia curata adesso Ma era un one shot Quando l'ho taggata io Che hanno preso già positioning quelli Bastardi E ci sta eh Voglio la bananina Pena la bananina e poi gli altri Anche se sembrano bravi questi qua Dai dai dove vai Bro Ok No No 28 bombe Let's go Let's go Ed è anche il mio record personale in solo 2 Ciao youtube buonasera Buongiorno quando vedete questo video non lo so ma ciao Mamma mia ragazzi Questo tryharding ci voleva Voleva 20 bombe e ne ho fatte 28 Se ne avessi fatte 30 ragazzi mamma mia Avrebbe stato proprio il fucking dream GG comunque ragazzi GG